Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Garcini. Iniziamo dalla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, dove si segnalano rallentamenti per lavori tra il bivio con la diramazione per Pisa e Pontedera-Ovest-Ponsacco, in direzione Firenze. Per il momento, invece, il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana. In A1 panoramica, per consentire attività di ispezione delle opere d'arte, stanotte, in orario 21.06, sarà chiuso il tratto tra Rioveggio e Aglio, in direzione Roma. Contestualmente chiusa l'entrata di Rioveggio verso Roma e chiusi gli svincoli di Pian del Voglio e Roncovilaccio, l'entrata verso Roma e l'uscita provenendo da Bologna. Muoversi in Toscana, è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!